Siamo adesso della madre di tutte le riforme, come l'ha definita Giorgia Meloni, cioè la riforma costituzionale col premierato. Mi spiega perché la Meloni continua a dire, a ripetere che questa riforma non cambierà i poteri del Presidente della Repubblica quando in realtà non è vero? Dice una falsità di proporzioni cosmiche perché anche qualsiasi cretino leggendo questa riforma vede che viene di immediato il ruolo del Presidente della Repubblica, anche di più, perché quando tu non puoi proporre alle Camere il Capo del Governo, quando tu non puoi sciogliere le Camere, di che cosa stiamo parlando? Io ho sempre detto anche qui qualche volta che questi qui quando vedono la prima difficoltà rilanciano, non è solo una copertura. Ma questi qui chi sarebbero? Sì, questa destra, Meloni e compagnia rilanciano, non solo per oscurare questi guai della manovra, eccetera, perché vedono che è difficile, che anche l'anno prossimo saranno col... e quindi rilanciano, giocano la carta più alta. Allora questa riforma è chiaro che mette al guinzaglio il Presidente della Repubblica e il Parlamento, ma però c'è da farci un'altra domanda, perché non è solo questa riforma, anche quella prima che è stata bocciata dal referendum. Quella di Renzi. Cioè, perché bisogna chiedersi, ma perché noi cerchiamo, si cercano sempre delle cose che non esistono al mondo? Proprio non esiste, questa qui non esiste al mondo. Allora, vuoi un sistema presidenziale, semipresidenziale? Ispirati alla Francia, agli Stati Uniti. Vuoi un sistema parlamentare come io voglio, proprio fermamente? Ti ispirerai alla Germania. E al cancellerato. Ma invece noi... Perché? Perché quei sistemi lì, che ho citato, hanno dei contrappesi, non ti consentono un'interpretazione autoritaria, che non è la stabilità del governo, è la stabilità di una persona. Quindi lei pensa che Giorgio Meloni... Sia quella di prima, sia quella di adesso. Sia Meloni come Renzi, che non vogliono i contrappesi. Sono diversissimi, ma sono riforme che non si vedono in giro per il mondo. In particolare questa, perché l'elezione diretta del Premier non ce l'ha nessuno al mondo. Questo è vero. Nessuna democrazia. Ci sarà motivo? Ci sarà motivo? Bersani, il sondaggio che è stato dato dal telegiornale ci dice che su questa riforma gli italiani al momento sono al 34% a favore, il 38% di italiani sono contrari al Premierato, mentre un 28% ancora non lo sa. Non sa rispondere. Intanto lei pensa che si andrà comunque a un referendum perché in Parlamento non ci saranno i due terzi di voto? Se insistono per forza, se insistono si va al referendum. No, quindi esclude che si possano trovare i voti in Parlamento dei due terzi? Su questa riforma lo esclude. Lo esclude. E se si andasse al referendum, visto che ha già fatto un paragone prima della Meloni con Renzi, finirà come Renzi? Noi, guardate, noi italiani, ormai dovremmo averlo capito, che alla politica non ci credono, la politica li rompe, sono sfiduta. Però la Costituzione per gli italiani è una cosa seria, è l'unica cosa seria di fondo che è rimasta nel cuore degli italiani. Quindi gli italiani accettano senza batter ciglio che ci sia una lieve corretta, l'abbiamo corretta due o tre volte per l'amor di Dio. Accetterebbero se ci fosse un dibattito e un larghissimo consenso per cambiare qualcosa, perché anche se si facesse un tipo un cancellierato alla tedesca, qualcosina bisogna aggiustare. Però se la Costituzione e la modifica di Costituzione prendono una piega di concentrazione eccessiva del potere, gli italiani non ci stanno. Si dovrebbe saldare un'opposizione, un fronte del no, vedendo il centrosinistra così diviso e le differenze che ci sono state in questo primo anno tra Schlein e Meloni. Ecco però, scusa, adesso arriviamo all'opposizione. Grazie.